ed eccoci qui appena finita anche la parete dell'italia l'italia che perde per 2 a 1 purtroppo finisce l'imbattibilità dopo 37 partiti prima poi purtroppo non va a succedere sta cosa però diciamo che non è stata una grandissima parete da parte dell'italia anche se dall'ottantesimo poi è venuta fuori ci hanno provato un po con l'orgoglio finale ma purtroppo alla fine non ce l'avevamo fatta altro gol del pellegrini tra l'altro che conferma un ottimo campionato da parte dei pellegrini sia con la roma con l'italia sono contento per lui finisce l'imbattibilità e finisce anche la national league spagna in finale anzi in realtà non è finita perché se non sbaglio dove ci dovrebbe essere la finale per il terzo quarto posto però sempre da disputare la vincente tra belgio e non mi ricordo comunque comunque in italia oggi un po opaca spagna sugli scudi sicuramente è rimastrato di vincere da questa partita fatto molto molto di più anzi senza donna roma forse oggi sarebbe potuta finire anche con più gol e scarto fatto anche un miracolo tranne del primo tempo che ho fatto una mezza papera però oggi la spagna è stato ampiamente superiore all'italia tempo quella dire sinceramente che poca roba mentre chiesa mamma mia che forati tra i migliori in campo sicuramente infatti il gol per il 95 per cento è tutto le chiesa anzi forse avuto fa un po come si dice adesso mi viene il termine comunque potrà benissimo segna anche lui ecco però fatto segna pellegrini e io sono contento da romanista sono più contento però oggi non bene diciamo un passo indietro rispetto a tutte le altre partite però dopo una marea le partite prata avanti 37 le preciso c'è posta questa coppa ne che per me contano i mondiali europei sinceramente però se uno andava avanti magari era meglio però come dico sempre non si può vincere sempre non si può vincere tutte le coppie e quindi accontentiamoci e adesso la prossima partita non mi ricordo mi pare siano le qualificazioni se non sbaglio è un po' un casino comunque è partita non brillantissima anche questa dopo il dubbio al cominciamo con le sconfitte purtroppo inframmezzata da quella vittoria della roma però va bene e niente doveva succede come detto prima 37 partite record ormai che stra battuto e stra battuto a nuovo all'arbatta l'altra volta auguri alla prossima nazionale che ci approverà e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza italia sempre se si spegne sto cazzo